Sempre più importante il trofeo Tosco Umbro di Lippiano che alla partenza ufficiale di Monterchi ha schierato 170 Elite Under 23. Importante non solo per la quantità ma anche per la qualità dei corridori che hanno onorato al meglio questa corsa resa dura da 4 GPM. Un bel successone e un vanto delle gruppo sortivo Audax di Franco Vellucci, Sauro Merli e Compani che hanno fruito come sempre dell'ottima direzione di gara di Luigi Perugini assistito da un foltissimo numero di addetti alla sicurezza in corsa e lungo tutto il tracciato. Prima parte della competizione in Alta Valtiberina per Sansepolcre e Città di Castello, gruppo diviso in due tronconi 28 unità in avanti con largo vantaggio. Ma le carte si sono rimescolate per la continua bagarre e i passaggi sul primo GPM a Citerna sono stati alquanto frazionati. I ribaltamenti di fronte più incisivi si sono avuti sulla salita delle Santa Lucia scalata tre volte e sulla successiva picchiata per ritornare alla statale Aretina e Monterchi. È stato un crescendo di azioni con agitazione continua in testa alla corsa, l'episodio risolutivo verso la sommità dell'ultima scalata al Santa Lucia. Dalle Sestetto in fuga, che era già transitato sotto Lippiano con largo vantaggio, Zabrailova ha preso in largo scollinando per primo in seguito da Muscelli. Sulla discesa i due hanno unito gli sforzi e nessuno li ha più raggiunti. Infine, sull'ultimo aspro chilometro che sale al paese, Muscelli è riuscito a staccare il corridore dell'Este e si è presentato tutto solo al traguardo sotto l'imponente Castello di Lippiano. Questo è l'ordine d'arrivo, primo Davide Muscelli del team Opla, poi a brevi intervalli, secondo Eldar Zabrailo, TS Ciapponi, terzo Davide Censori della Monturano, quarto Stefano Di Carlo, Pantani Caffè Mocambo, quinto Matteo Gozzi della Bedogni. Molti i classificati, ma sentiamo il vincitore. Sì, oggi sono contentissimo di questo risultato, era un po' che lo cercavo, ci voleva proprio per il morale in vista di tutti i grandi appuntamenti che ci sono in questo finale di stagione. Dove sei andato via? Sono partito a 500 metri e lui ha ceduto. Un giudizio su questa corsa, non so se la conoscevi, ma è una gara molto impegnativa. No, era, a dir la verità, il primo anno che facevo questa manifestazione, sicuramente un percorso adatto alle mie caratteristiche che mi ha entusiasmato molto e sono felicissimo di avervi partecipato.